Non ci sta neanche bisogno. Chiede un minuto di aspettare. Sì, sì, sì. Per buono. Cioè, devo mettersi qua? No, no, c'è qui. Samira, mi chiami Francesca subito? Sì. 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 Grazie. Pronto? Prova. Siamo una squadra. No? Grazie. C'è notante di partire contro a quello. Sì, scherzi, ti ringrazio. Oggi ha vinto la squadra. Oggi ha vinto la squadra però. Perché se non c'è le giocatrici che si prestano al sacrificio non vinci mai. Anche se sei la dora più forte del mondo. Felice di esserci riuscita nel giorno più importante. Grazie. Grazie. Grazie a tutti.